Dal Vangelo secondo Matteo Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora perché conviene che adempiamo ogni giustizia Allora egli lo lasciò fare Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua Ed ecco si aprirono per lui i cieli Ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui Ed ecco una voce dal cielo che diceva Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento Ed ecco una voce dal cielo che diceva Allora Allora Grazie.